Noi abbiamo lavorato con i servizi sociali perché c'era una situazione di disagio familiare importante, ci hanno chiesto l'ausilio che noi come al solito abbiamo dato ben volentieri, nella circostanza oltre a far prendere questo ragazzo per portarlo in una collocazione protetta fuori regione, si è proceduto anche a fare una perquisizione in casa e abbiamo dovuto procedere all'arresto perché il genitore aveva un notevole quantitativo di stupefacenti e di strumenti per lo spaccio. Una situazione delicata, particolare per l'età del bambino e per le sue condizioni fisiche, sicuramente una cosa molto molto delicata. I carabinieri collaborano con i servizi sociali di tutti i comuni della provincia proprio per individuare in primo luogo e poi per collaborare nel portare a termine questo tipo di operazioni, i servizi sociali, forniamo quella che viene detta manforte a questo tipo di attività.